Bene, ancora nuova intervista qui alla Mille Miglia, prima tappa di Brescia, siamo pronti alla partenza, questa è la macchina che ci accompagnerà, la support car della Porsche Speedster 318 e con me adesso Luca Peretti di Feder Terziario Scuola, benvenuto Luca. Grazie mille, noi siamo Feder Terziario Scuola, una rete di enti di formazione, scuole paritarie e asili nido, siamo all'interno di Feder Terziario, della rete di Feder Terziario, del conto di rete, da Fonditalia ormai da 10 anni, finanziamo ogni anno circa 300.000 euro di formazione dedicata a docenti e personale amministrativo delle scuole noi associate. Ecco Luca, quanto è importante anche per questa tipologia di lavoratori essere formati e aggiornare costantemente le competenze? Bene, considerate che noi utilizziamo il 90% delle risorse per finanziare corsi di aggiornamento professionale in materia pedagogica, solamente il 10% riservato per la sicurezza sul lavoro, quindi noi ci concentriamo molto, ma non solo all'interno dell'organizzazione, grazie a Fonditalia noi riusciamo ad avere gli enti attuatori che gestiscono il progetto, i beneficiari che portano soprattutto il personale docente, ma anche gli stessi erogatori del servizio, per cui noi abbiamo dei leader a livello nazionale nel settore che riescono in questo modo ad avere risorse fondamentali per l'adeguamento del sistema scolastico. Ecco, sono tanti anni che oramai aderite a Fonditalia, puoi trarre un bilancio positivo di questa esperienza? Assolutamente, siamo rimasti da 10 anni perché in 10 anni ogni anno riusciamo a modulare la formazione in maniera veloce e rapida e soprattutto sempre cercando di venire dietro alle esigenze delle imprese, quindi in maniera molto flessibile, questo ci permette noi di aver fatto tantissima formazione per tanti anni consecutivi, senza mai fermarci, perché anche questo, noi con Fonditalia non ci siamo mai fermati. È una formazione sempre in movimento, così come in movimento la tappa delle mille miglia, siamo noi, benvenuto a bordo, a te, a Feder Terziaro Scuola e che l'avventura comincia. Noi ci siamo. Grazie. Grazie a voi. Grazie.